Quello da cui partiamo oggi sono le equazioni di Pemma-Montiz, note con questo nome perché Pemma fu il primo che le derivò nel 1948 e poi Montiz le modificò. Tuttavia il modo in cui ve le presento io è una storia piuttosto recente, alcuni anni fa Schimansky e Ora, adesso mi accordo che ho scritto in modo sbagliato il nome di Schimansky che finisce con la I o con la Y, Schimansky e Ora hanno un po' modificato il modo, l'approccio a questo tipo di equazioni. E quindi sarà quello che io seguirò in questa fase. Vediamo di risistemare qui il video. Ok, che mi dà fastidio. Quali sono i punti da cui noi partiamo? I punti da cui noi partiamo sono tre equazioni che abbiamo costruito attraverso vari ragionamenti. La prima è l'equazione di Dalton che riguarda il trasporto convettivo del vapore. In che cosa consiste questa equazione? Che qui scrivo, vedete c'è un esponente, uno spesso di esponente M. Sarebbe per indicare che questa mi dà una massa, quindi chilogrammi al secondo. Questa è uguale alla densità ρA dell'aria per CE, dove CE è un coefficiente di drag. Q è la velocità media dell'aria e poi abbiamo una differenza tra quella che ho chiamato Q sharp Z0 meno Q di Z0. Cosa sono questi Q intanto? Q è l'umidità specifica dell'aria, misurata in due posizioni. Q di Z0, quindi Z0 è il livello della superficie emittente, e Z invece è un livello superiore in atmosfera. Ho ulteriormente messo questo hashtag, questo simbolo sharp, questo diesis come lo volete chiamare, per indicare che spesso questo termine deriva da altre considerazioni. Mentre Q di Z si assume per esempio che sia misurato, il Q sharp in qualche modo deve essere assunto. Poi nella derivazione successiva noi faremo una certa assunzione e muteremo questo sharp in un asterisco. E questo avrà ovviamente un certo significato e un profondo significato fisico. C'è un'analoga espressione per il trasporto convettivo di energia termica. che dipende dal termine CP, dove CP è la capacità termica specifica, in questo caso dell'aria umida, per la differenza di temperatura T di Z0 e T di Z. Dove Z0 e Z sono le grandezze che ho, le deltesse che ho già specificato. Infine abbiamo anche un'altra espressione, che è la legge di conservazione dell'energia. Legge di conservazione dell'energia nello stato stazionario, in cui al primo membro abbiamo la radiazione S, che è la radiazione ad onde corte, la radiazione L, che è la radiazione ad onde lunghe. e questo termine è bilanciato da che cosa? Dai flussi di calore latente e sensibile che compaiono nelle prime due formule in alto e da vari altri elementi, che ho chiamato sinks, che possono comparire nel bilancio. In questi sinks, per esempio, potrebbe essere coinvolta l'energia chimica che serve alla costruzione vera e propria delle piante. Un aspetto particolare di questa equazione, che se vogliamo è la novità che hanno introdotto, una delle novità che hanno introdotto Shimansky e Dor, è che il calore latente e il calore sensibile, il trasporto, o preferite il trasporto convettivo di vapore e di energia termica, sono qui preceduti da due lettere, A e B. Perché il bilancio di energia è diverso a seconda che lo si faccia per il suolo, per esempio, o per una foglia. Quando lo si fa per una foglia, la foglia, per esempio, il bilancio di energia termica, lo fa su entrambe le superfici superiore ed inferiore della foglia, quindi in qualche caso A è uguale a 2. Su un suolo, invece, una sola superficie di scambio termico con l'atmosferica, in quel caso A è uguale a 1. Allo stesso modo, anche le foglie possono avere gli stomi da una parte o da entrambe le parti. In questo caso B è uguale a 2 o 1, a seconda del tipo di vegetazione con cui ho a che fare. Quali sono le variabili in queste tre equazioni? Le variabili in queste tre equazioni sono, cioè le nostre incognite, sono l'evaporazione, sono il H, il calore sensibile, e sono le due differenze tra il delta di umidità nell'atmosfera e il delta di temperatura sempre nell'atmosfera. Questo, se R con L è misurata, R con L è il bilancio, è la componente di energia radiante ad onda lunga. E noi faremo l'ipotesi che RL sia una quantità misurata e che quindi conosciamo, che è l'ipotesi che fu fatta originariamente da Pemman. In realtà non è così, perché le foglie e il suolo hanno una risposta radiativa piuttosto importante che non si può trascurare. Ma noi per il momento consideriamo che questa sia misurata e che quindi sì, questa risposta radiativa non si può trascurare, ma supponiamo che noi l'abbiamo semplicemente misurata. Che cosa succede? Quindi abbiamo quattro incognite, che sono quelle con il quadrato, con i quadratini blu e abbiamo tre incognite. Abbiamo quattro incognite e tre equazioni. Ci manca un'equazione per poter solvere questo sistema. Peraltro, così come è messo per ora, il sistema è un sistema lineare nelle incognite, non compare nessun termine quadrato e così via. E quindi l'affermazione che ho appena fatto è assolutamente vera. Posso fare una certa ipotesi importante è che la superficie evaporante contenga acqua in abbondanza. Questo significa che appena sopra la superficie evaporante si può assumere che il contenuto di vapore sia pari all'umidità specifica all'equilibrio. ovvero alla saturazione. Se posso fare questa ipotesi, allora l'equazione di Clausius-Clapeiro, che è quella appena scritta sotto, è quella che mi permette di chiudere il bilancio. Perché questa equazione è una quarta equazione che mi mette in relazione, che mi dà la relazione fra temperature e umidità e mi permette di chiudere il sistema. Lambda è il calore latente di vaporizzazione, in questo caso T è la temperatura, T di riferimento è una temperatura di riferimento che potrebbe essere l'umidità, per esempio a 20 gradi o a 10 gradi, una certa umidità di riferimento, cioè una certa tensione di vapore di riferimento e star sta a significare che questa è la tensione di vapore, cioè è appunto la massima quantità di vapore che può esserci nell'atmosfera all'equilibrio. Voi sapete che la parte atmosferica comunque potrebbe essere anche sovrasatura e questo può generare delle complicazioni. L'espressione, la seconda equazione, ricorda la relazione che c'è fra umidità specifica a satura, fra umidità specifica in generale e pressione parziale di vapore. Il rapporto ε su π contiene al numeratore una costante che è pari a 0,622 e al denominatore contiene la pressione che è dell'atmosfera. Il problema è che l'equazione precedente è non lineare. L'equazione precedente è non lineare e quindi se dovessimo risolvere il sistema con questa quarta equazione non sapremo come fare. L'idea di Pemmamp nel 1948 è stata quella di sviluppare questa equazione in serie di Taylor. Allora, l'approssimazione in serie di Taylor di questa equazione è rappresentata in basso nel cerchio nella parte che vedete su sfondo senape. E quindi è uguale ad una certa Qstar di TZ0. In particolare la serie di Taylor qui noi andiamo a calcolare, osservate a sinistra, Qstar di Z0, cioè la saturazione in prossimità della superficie emittente. Ma la sviluppiamo in serie di Taylor attorno all'umidità, a saturazione corrispondente a livello Z, cioè in atomosfera. In questo caso abbiamo che è uguale a Q di T di Z, cioè in atomosfera, per la derivata di Qstar su DT calcolato in T uguale a Z, cioè per la temperatura in atomosfera, per la differenza delle due temperature T di Z0 e T di Z. In questo caso posso naturalmente usare la relazione che lega Q con le pressioni parziali per ottenere la legge di Clausius-Clapeiron completa. La derivata della legge di Clausius-Clapeiron è quella che vedete scritta praticamente in centro della slide che contiene già inserite le variabili di riferimento. sotto forma di costanti. Quindi quel delta noi lo conosciamo. Dipende eventualmente dalla temperatura, ma questa è comunque la temperatura a livello, è una temperatura che viene nell'espressione precedente fissata. Quindi per noi delta è una costante. L'ipotesi di usare l'equazione di Clausius-Clapeiron fatta da Peman non viene gratis. Quella è la tassa che noi paghiamo nell'usare Clausius-Clapeiron nell'assumere che ci sia infinita acqua a disposizione sulla superficie evaporante per evaporare. In questo modo, quello che succede è che io disaccoppio la mia evaporazione dal bilancio di massa. Abbiamo mostrato nelle lezioni precedenti che infatti che l'evaporazione entra in tre equazioni. Entra nell'equazione del bilancio di energia, nell'equazione del bilancio della quantità di moto, entrerebbe anche nell'equazione della conservazione della massa. Tuttavia, se io faccio questa ipotesi dico che massa di acqua ce n'è quanto si vuole. Questo significa che il nostro sistema è solo energy limited, cioè casomai è solo l'energia che deve fare il lavoro per estrarre l'evaporazione mentre l'acqua è sempre disponibile. Non è water limited. Questa è un'ipotesi piuttosto forte. La seconda ipotesi, naturalmente, è che RL sia misurato di cui vi avevo parlato prima. A questo punto noi abbiamo un sistema di quattro equazioni in quattro incognite. Il sistema è lineare e lo possiamo risolvere per sostituzione. Qui, quello che faremo negli prossimi passaggi sarà proprio quello di andare a fare della sostituzione passo passo. Questa è l'equazione la rappresentazione dell'equazione di Clausius-Clapeiro al primordine dell'espansione di Taylor. Questa equazione la possiamo scrivere come in funzione della pressione parziale estar che non cambia assolutamente nulla cambiano semplicemente i coefficienti e userà poi nella derivazione successiva estar invece di Q. d'altra parte nelle espressioni che compaiono nelle mie equazioni ho una differenza che è estar di Z0 cioè la saturazione calcolata in Z0 meno il valore di pressione parziale calcolato a livello Z cioè quindi ho due pressioni una è la pressione a saturazione la tensione di vapore l'altra no una è calcolata sulla superficie emittente e l'altra è calcolata ad una certa quota Z posso posso in realtà quindi andare a sostituire l'equazione che ho in alto nell'equazione in basso al posto di estar di Z0 sostituisco l'espansione di Taylor che avevo appena fatto e in questo modo ottengo una differenza fra l'estar di Z e l'estar di e l'enormale di Z cioè la differenza alla quota Z però tra tensione di vapore e vapore realmente esistente questo termine è chiamato domanda evaporativa ed è definito come delta E di Z le altre variabili sono ET e H e poi definisco anche altre due ulteriori variabili che sono T delta che è esattamente la differenza tra T di Z0 e T di Z ed E delta che è E star di Z0 meno E di delta in questo modo la scrittura delle mie equazioni risulta semplificata come appare qui cioè la legge di Dalton moltiplica E di a secondo membro E delta la legge del trasporto di calore sensibile a T delta e l'espressione semplificata di Clausius-Clapeiro a questo punto si legge E delta uguale delta E di Z che sarebbe la domanda evaporativa per delta che è la derivata dell'equazione di Clausius-Clapeiro per T delta che è la differenza fra le temperature a questo punto abbiamo detto che andiamo a risolvere la nostra equazione per sostituzione allora prendiamo qui ho vedete l'equazione dell'energia era al terzo posto spostata al secondo per comodità e al posto dell'espressione di E T sostituisco l'espressione che deriva dalla legge di Dalton quindi al posto di B lambda da E T sostituisco rho A CE epsilon diviso P per U e delta e quello che ottengo è questa espressione il passaggio successivo è quello di sostituire H quindi al posto di H sostituisco rho A CC PU barrato T delta e quello che ottengo in successione è questa espressione in cui conservo i vari termini a questo punto quello che posso fare è sostituire anche il valore di E delta nell'espressione che mi era rimasta dell'evaporazione è chiaro che avrei potuto anche cambiare l'ordine delle operazioni che io ho fatto R e L lo penso come misurato e anche i sin li penso nel caso come misurati dopo questa sostituzione l'equazione dell'energia ha il primo addendo che dipende da vari parametri che più sono tutti i parametri che io però penso di poter misurare e da T delta che è una delle mie variabili il secondo addendo dipende da delta e Z e di nuovo da T delta delta e Z penso che sia un valore misurato e non una variabile e allo stesso modo DRL e async SN e quindi in questo modo l'equazione risulta semplicemente una funzione di T delta allora raccolgo T delta dall'equazione 3 che compare qui e metto tutti gli altri termini dall'altra parte operazioni sì che bisogna fare con una certa attenzione ma che sono semplici da fare allora il nostro T delta ha finalmente questa espressione che sembra un po' complicata però è la nostra prima soluzione la nostra prima variabile che abbiamo trovato di solito questa variabile viene arrangiata in alcuni modi cioè intanto si separano i due termini al numeratore cioè i termini radioattivi e gli eventuali SYNC da una parte e il termine che contiene delta e Z che è la domanda evaporativa da quell'altra e la temperatura risulta come differenza di questi due termini questa è l'equazione nel corso della storia di questa equazione si è andata definendo anche alcune costanti alcune cose come per esempio la costante psicrometrica che è il rapporto fra Cpp e Epsilon Lambda dove tutti i termini sono Cpe e la capacità termica specifica a pressione costante dell'acqua P è la pressione Epsilon è uguale a un numero 0622 Lambda è il calore latente di vaporizzazione con questa definizione il diciamo che il T delta rimane un po' meno clattered ed è composto sempre dei suoi dei soliti due termini che si possono scrivere in questo modo qui ho lasciato separate per ragioni che vi saranno chiare più tardi le conduttanze C e CE anche se forse non ve ne siete resi conto queste vengono fuori dalle equazioni del bilancio delle equazioni di Dalton e dall'equazione del del trasporto di calore sensibile ho lasciato le due conduttanze diverse mentre se vi ricordate l'ipotesi nella quale le avevo ottenute all'inizio era che fossero cioè avevo ottenuto un'espressione di C che poi avevo chiamato conduttanza aerodinamica nell'ipotesi che i vari termini fossero uguali qui però li tengo distinti per un motivo che vi sarà chiaro fra poco una volta che ho fatto che ho sostituito queste equazioni io cioè una volta che ho ottenuto T delta che cosa posso fare posso andarlo a sostituire nelle altre equazioni e il risultato che qui vi elenco è questo cioè quindi ottengo un'espressione una soluzione per lambda e T quindi per il calcolo dell'evapotraspirazione una soluzione per H una soluzione per T delta che era quella che avevamo già prima e una soluzione per E delta come si devono interpretare queste queste uguaglianze queste uguaglianze non sono delle equazioni cioè sono delle equazioni in senso lato ma sono soprattutto delle soluzioni cioè il termine a destra è un termine che nelle ipotesi che io ho fatto è completamente noto e mi permette di calcolare la variabile che sta a sinistra queste equazioni rappresentano un po' una novità rispetto a quanto avvenuto in precedenza rappresentano una novità perché la prima osservazione è che ci sono questi coefficienti A e B e questi coefficienti A e B differenziano le varie superfici che noi stiamo trattando come vi ho detto prima è diverso se io sto trattando una foglia per cui in H A è uguale a 2 mentre B potrebbe essere uguale a 1 se gli stomi stanno solo da una parte e oppure A e B potrebbero essere entrambi 1 a seconda dei casi è certo che se si se si mette A uguale a 2 o A uguale a 1 fa molta differenza eppure i ricercatori che hanno usato queste relazioni per più di per praticamente 70 quasi 70 anni non se ne sono mai accorti questo dice molte cose sulla nostra capacità anche di misurare queste quantità se noi facciamo un errore di fattore 2 in una formula e non ce ne accorgiamo neanche vuol dire che le misure sono molto incerte l'altra l'altro fatto è che appunto che io ho già rimarcato nelle mie parole però sul quale voi forse non avete posto attenzione è che queste sono soluzioni delle equazioni sono soluzioni parametrizzate dai valori che compaiono sulla destra ma sulla destra voi avete fondamentalmente dei numeri mentre le incognite sono quelle sulla sinistra e non c'è una sola incognita peraltro non c'è una sola incognita sono tutte e quattro le incognite quindi la variazione il delta di temperatura il delta di umidità e il calore sensibile quando io vado ad usare questa formula contemporaneamente sono in grado di sapere quant'è il calore sensibile quant'è la variazione di temperatura e quant'è la variazione di umidità per quanto riguarda T delta e D delta ci possono essere situazioni anche varie perché per esempio io posso pensare qui di misurare T con Z e D di Z e a questo punto ho come risultato T di Z zero e D di Z zero quali sono le equazioni dovete ricordarvi quali sono le equazioni che io ho risolto ho risolto le equazioni del trasporto turbolento di calore sensibile e di calore latente e il bilancio di energia nelle condizioni in condizioni di stazionalità che vi avevo reso evidenti in una delle scorse lezioni nell'espressione classica dell'evaporazione secondo Pemman o secondo Montice i vari termini erano molto più simmetrici perché A e B erano semplicemente presi uguali a 1 e quindi qua per esempio è anche più semplice perché se voi prendete per esempio E delta se B è uguale a 1 l'ultimo addendo scompare completamente quindi queste soluzioni sono più generali e un po' più complesse nel caso di se la superficie evaporativa per esempio è un lago una superficie liquida A e B sono certamente uguali ad 1 C si può praticamente assumere uguale a CE e le equazioni si semplifichino ulteriormente l'altro elemento nel ricavare queste soluzioni non abbiamo tenuto in conto il fatto che effettivamente le superfici quando ricevono radiazione si riscaldano e quindi emettono emettono radiazione ad onda lunga come emettono radiazione ad onda lunga beh la emettono in base alla legge di Stefan Boltzmann cioè sarà Epsilon Sigma che è la costante di Stefan Boltzmann per T alla quarta dove T è la temperatura della superficie emittente in questo caso R con L se ascoltiamo questo ragionamento R con L è una funzione di T che è una delle variabili che è entrata nella nostra risoluzione se noi vogliamo esplicitare questo fatto queste soluzioni che abbiamo appena ottenuto non si possono ottenere in forma chiusa in generale o meglio si possono ottenere in forma chiusa ma perché ne esce un polinomio di ordine 4 ma sono un po' più complicate sono molto più complicate e in generale comunque noi lavoreremo nell'ipotesi di risposta radiativa della vegetazione o delle altre superfici e quindi non useremo potremmo usare queste equazioni ma di solito usiamo le equazioni più complete queste equazioni nonostante le semplificazioni che sono state introdotte sono tuttavia relativamente complesse per esempio ci sono alcune cose di cui abbiamo che abbiamo fatto all'inizio e che qui vi ricordo abbiamo assunto un bilancio di energia stazionario pensando che la superficie emittente la superficie che emette l'evaporazione non abbia sostanzialmente capacità termica e si adatti istantaneamente alla temperatura richiesta per bilanciare le forzanti possiamo sempre fare questa ipotesi o no? e poi l'altra ipotesi molto forte che vi ho annunciato all'inizio e che vi ricordo qui alla fine è che appunto abbiamo tolto di mezzo il bilancio di massa possiamo sempre togliere di mezzo il bilancio di massa? anche questa è una domanda a cui in generale bisogna rispondere per portare a casa i risultati corretti quando si vanno a simulare le varie evaporazioni o la traspirazione avete delle domande? grazie